Ricorda, carpe diem, cogli l'attimo, e una volta che l'ho colto cosa devo fare? Ci sarà un detto apposta per... adesso io non... Se il momento che ho colto è il momento sbagliato... Quante domande stamattina, eh? Come ci sono svegliati i polemici! Se il momento che ho colto è sbagliato, è sbagliato, vabbè, nella vita si sbaglia anche. Oggi due messaggi motivazionali, carpe diem, e nella vita si sbaglia, quindi si va avanti con gli errori, va bene? Senza essere polemici, però se questo atteggiamento qua è l'atteggiamento del lunedì, e poi che per tutta la settimana io non voglio sapere come va la tua settimana... Cioè, vuoi prendere i consigli motivazionali? Bene, sono qua apposta. Se al primo messaggio motivazionale, eh, ma io, eh, ma come faccio, eh... Non... quindi, cogli l'attimo, dal mondo ci sono errori e... Meno, meno, ok?